allora buongiorno da web tv studio ci troviamo in compagnia di claudia e di simone no 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 io oggi sono il dottor spalanca raccontaci qualcosa dai forza beh qui è il terzo giorno qui in fiera moto days per noi il terzo anno di presenza in questa fantastica diciamo fiera dedicata al mondo delle moto le due ruote delle quattro ruote perché io sono il dottor spalanca guido un quad per cui ho ben quattro ruote anche se poi ne utilizziamo due volte una insomma ne facciamo un po di carambola abbiamo fatto già due spettacoli c'è il sole veramente che picchia all'infinito siamo benissimo ci stiamo abbronzando anche per cui direi di buon auspicio per un'estate veramente piena di energia piena di spettacoli che faremo ovviamente in tutta italia e aspettiamo tutti voi che venite a vederci faremo numerosi allora fai un appello a questi spettacoli quando ci saranno i prossimi spettacoli al prossimo spettacolo ci vediamo a vicenza fila di vicenza mondo motori show un altro appuntamento molto importante del nord italia poi ovviamente ci saremo un po in tutte le regioni devo dire quest'anno il calendario non me lo ricordo a memoria però saremo poi in serbia in austria in svizzera per cui ne abbiamo da fare veramente tante vi aspettiamo sempre in movimento quindi sempre sempre in movimento ok qui è tutto grazie da web tv studios ciao Grazie a tutti.